Mamma mia che Juve, mamma mia che Juventus, triplete quest'anno, solo la Juve poteva farlo, complimenti, facciamogli complimenti o no? Allora, triplete, plus Valenze, falso in bilancio e doping, solo loro nel 2023 potevano riuscire in questa impresa, poi quando io vi dico che vanno radiati c'è anche chi si offende, è così, è così, che è tornato agricola, mamma mia, sempre le solite cose, in ogni bordello ci capitate dentro voi. Ieri siamo partiti dalla questione vendesi clan, ah no club, scusa, club, non clan, e poi siamo passati a questa notizia del caso doping di Pogba, risultato positivo al testosterone. Pogba, 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 è vero, c'è sempre la controprova, va accertato, possono chiedere le controanalisi. Pogba, ma i tifosi della Juve ti stanno aspettando, non hai fatto un cazzo e prendi un botto di soldi, adesso addirittura il testosterone. Questi giocatori qui non devono più entrare nel mondo del calcio, se colpevoli, se colpevoli al 100%, non devono più entrare nel mondo del calcio, cioè non devono neanche più avere un futuro, devono essere radiati, radiati, non potranno più fare né gli allenatori, né i dirigenti, perché quando, però dopo ti dico, se tu giochi alla Juve, la furbizia ti entra nel DNA. Che schifo, che schifezza. Gobi, o per un caso, o per l'altro, o per quell'altro ancora, ci siete sempre dentro, voi. Raga, sempre forza mila, ci vediamo in giornata, iscrivetevi al canale, lasciate un pollice in su e benvenendo. Che vergogna!